La direzione della ASL di Foggia ha bloccato la deliberazione impugnata dal comune di Manfredonia sulla questione dell'ospedale dopo il ricorso al TAR dell'ente comunale, sospesa quindi la riduzione da 8 a 6 delle unità operative complesse del San Camillo dell'Ellis. Il direttore generale Manfrini ha bloccato le precedenti disposizioni spiegando che non si darà esecuzione a quanto definito con la deliberazione 1159 sino alla definizione delle linee guida regionali per la predisposizione degli atti aziendali. Si rende opportuno, è scritto ancora nella nota di Manfrini, allargare ulteriormente la fase partecipativa procedendo all'acquisizione delle ulteriori proposte di modifica e integrazione dell'atto aziendale. Successivamente all'adozione della succitata deliberazione numero 1159 sono pervenute delle richieste di modificazione e integrazione da parte dei vari sindaci dei comuni del territorio provinciale, nonché da parte di alcune organizzazioni sindacali e organismi di rappresentanza. La soddisfazione del sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, prendo atto con favore del ravvedimento della direzione ASL, dice il primo cittadino sipontino, ritengo che questa sia la diretta conseguenza del nostro ricorso al TAR, non mi spiegherei altrimenti il congelamento di quel piano aziendale nefasto per il nostro ospedale e che per giunta a nostro avviso non rispetta i parametri di legge previsti.